È una pre-preparazione per quanto riguarda anche il campus, cioè questi sono tutti quelli del campus più altri tre o quattro interessanti in chiave nazionale che in questi giorni lavoreranno sui principi di gioco non chiaramente su altre cose specifiche. Diciamo che è un gruppo che ha già lavorato anche se a spezzoni moltissimo perché la Youth League, il tecnico Gagliardi li ha ben conosciuti. Vengono da delle selezioni che sono state anche importanti perché questa Youth League ha aiutato a giudicarli e quindi è un periodo molto caldo estivo che non è facile lavorare con questo caldo ma faremo un'altra buona settimana oltre a questa andando poi a concludere in Svizzera. Senza voler fare paragoni perché non è giusto farne però naturalmente poi dopo un progetto, dopo due anni così impattanti anche per il movimento come quello del campus adesso c'è curiosità di vedere che gruppo è questo, che ragazzi sono, anche che tipo di predisposizione c'è. Magari forse anche un po' di paura in meno rispetto al campus, quando è cominciato il campus. Sono la seconda generazione e questo è troppo importante, questi ragazzi sono così facilitati perché hanno avuto la strada aperta, quindi è un buonissimo gruppo, dal mio punto di vista paragonandola un po' dal livello medio è veramente interessante perché ci sono molti giocatori che si equivalgono per ogni ruolo, per cui oltre allo sviluppo individuale sarà interessante vedere un tipo di gioco ancora più veloce, più spinto perché veramente da quello che sto vedendo ce ne sono tre per ruolo. Ecco, hai accennato alla tipologia di gioco legata alle caratteristiche di questa squadra, quindi che campus e quindi che nazionale giovanile poi vedremo? Ricordiamo che questo è un anno importante per questo campus e per questa accademia perché poi nel 2024 inizia la trafila a livello giovanile, a livello internazionale. Dal punto di vista dei sistemi di gioco che cosa cambierà? Cambierà anche in difesa, fin da subito cercheremo le due difese di base, 5-1 e 6-0, cosa che non abbiamo fatto con l'altra fin dall'inizio. In più, se è vero che il gioco veloce è stata l'arma importante per i due anni precedenti, noi pensiamo di poter fare ancora di più perché pensiamo che per giocare la Silver sarà molto difficile. Ogni volta che ci schiereremo in attacco contro delle difese che sicuramente fisicamente saranno superiori, saremo in difficoltà, per cui dobbiamo sfruttare questo fatto che siamo in tanti, possiamo fare rotazioni senza perdere la qualità e penso che sul punto del gioco veloce saremo ancora più incisivi, soprattutto sulla rimessa veloce. Per tutti loro, per tutti questi ragazzi, sia per quelli che hanno già giocato con il campus da Giobartolome in giù, sia per i nuovi, è stata una stagione comunque molto lunga, culminata poi con le finals giovanili. Che tipo di predisposizione anche mentale stai vedendo dal gruppo in questi primi allenamenti? Innanzitutto c'è da dire che quella volta che era la prima volta del campus abbiamo avuto delle rinunce e qui non ce ne sono state. Questo è testimonia che ormai loro sanno che cosa le aspettano. Sono quindi straconvinti di far parte di questa esperienza e io li vedo con meno paura, con meno dubbi degli altri. Non che gli altri hanno avuto paura, questa non è la parola giusta, però c'è la curiosità di come si sarebbe stata la vita insieme. Questi secondo me già hanno capito che sarà una grande fortuna per loro.